ciao buongiorno ciao a tutti allora volevo farvi vedere che tipi di solari ho preso quest'anno e dirvi come mi sto trovando allora ho preso questo qui della naturado inizialmente questo più di un mese fa protezione 30 e ho voluto prendere questa confezione perché è più piccola dei normali dei solamente 100 ml ma l'ho preso apposta così perché comunque io non riesco mai a finire in un'estate solari e quindi se ne spreca sempre un sacco sempre tantissimo avanzano poi l'anno dopo non sono più buoni quindi vanno buttati allora l'ho voluto prendere da 100 questo per me questo l'ho preso per me e io so che non ne uso tanto quindi va benissimo allora questo qui da 100 ml l'ho pagato 13 euro e l'inci è buonissimo è un fluido quindi si stende benissimo fluido solare viso e corpo alta protezione quindi evidentemente la naturado con 30 arriva al massimo perché se c'è scritto alta protezione vuol dire che per loro l'spf 30 è il massimo non hanno la 50 e sul viso si stende benissimo non dà fastidio non ostrisce pori non fa sudare io mi sto trovando benissimo nel senso che l'utilizzo anche delle volte se so che sto molto fuori come proprio crema idratante e protettiva per il viso direttamente questa do è veramente un prodotto ottimo mi sto trovando benissimo va benissimo anche per il corpo l'ho utilizzato dunque domenica mi sembra addirittura a mezzogiorno l'una che per me è veramente raro però a quell'ora mi trovavo al mare quel giorno e l'ho dato su tutto il corpo e non mi sono assolutamente scottata ho una leggera abbronzatura ma proprio leggera senza assolutamente scottarmi sotto il sole di mezzogiorno quindi quindi è veramente ottimo buonissimo l'inci è buonissimo il profumo è buono molto delicato è a base di 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 oddio non mi viene il nome titanium di oxide quindi naturale c'è anche poi l'ossido di zinco allora poi ci sono come attivi c'è il ribes poi c'è l'olio di cocco il burro di karité poi c'è un altro olio che non conosco che si chiama mauritia quindi mauritia dovrebbe essere flexuosa fruit oil mai sentito poi tocco ferolo acido citrico così allora 100 per cento del totale degli ingredienti sono di origine naturale il 39 virgola 6 per cento quindi un buon 40 per cento quasi sono di origine biologica quindi veramente buonissimo sono contentissima di questo solare veramente buono e poi comodissimo che spray veramente buono poi invece per mia figlia ho preso questo dell'alchemilla questo appunto un po di più 150 ml perché lei va di più al mare e poi la riempio proprio quindi questo in una estate mi va via mi finisce sicuramente è buonissimo perché ha cocco e monoi purtroppo non vi posso far vedere la confezione interna perché stupidamente l'ho lasciata al mare però vabbè è una bella confezione da 150 ml ed anche questo è buonissimo perché mia figlia che sta molto al mare non si è scottata assolutamente è veramente buono si stende bene non lascia la scia bianca allora non ha peg dta parabeni sls propylen glicol bht bha siliconi petrolati dermatologicamente testato non testato sugli animali certificazione all'ora del nickel vegan prodotto vegan è buonissimo veramente buono 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 ok poi volevo farvi vedere anche così al volo che da limoni ho preso questo puscolo e ci sono tutti i suggerimenti vabbè ovviamente pubblicità sulla bronzatura così ma di interessante è che da limoni ora io col solari sono a posto quindi non prenderò non prenderò niente ci sono anche dei dopo sole degli oli per i capelli quindi potrei anche provarli quelli lì però per il resto sono a posto allora c'è questa nuova linea che è stata sviluppata proprio dalle profumerie limoni vediamo se trovo il punto dove l'ho letto allora ecco qua allora consapevoli dell'importanza di sviluppare una linea sonare efficace e tecnicamente evoluta l'abbiamo creato con i laboratori di ricerca bio earth leader italiano nella cosmetica bio meson bio sun una linea completa di solari con base naturale e biologica per proteggere la pelle di adulti e bambini ecco quindi insomma ottima come cosa perché sono stati fatti insieme alla bio earth che è una come sapete benissimo una linea di prodotti biologici veramente buoni ottimi e quindi dai sono contenta che insomma nelle profumerie da limoni si trovi anche questa linea qui si chiama meson bio qui spiega appunto per tutti i tipi di pelle che tipo di solare ci vuole quindi pelle irlandese pelle nordica pelle europea pelle mediterranea pelle scura e pelle nera ok c'è tutta una linea di solari meson bio da 50 viso e corpo allora c'è proprio la linea specifica viso e poi quella corpo sia 30 che 50 poi c'è l'olio solare che per le pelli insomma scure perché è una protezione 10 poi una 15 perché dipende dal tipo di pelle ovviamente e così e poi vabbè qui parla un po' del sole da alcuni consigli e qui fanno vedere proprio tutta la linea allora se riesco ecco qui allora qui sono di nuovo crema sole c'è un gel idratante preparatore al sole quindi questo prima di andare sotto al sole dunque per linea viso preparatore al sole gel idratante poi c'è appunto la linea viso crema solare linea corpo crema solare poi c'è linea capelli ecco questo qui era interessante linea capelli olio solare protettivo spf 10 poi c'è la meson ah questo qui ecco una cosa che notavo è che alcuni hanno la certificazione ed altri no per esempio questo gel idratante viso viene 50 ml 18 e 90 ma non la certificazione la certificazione bio le creme solari viso e corpo vengono da 50 ml per il viso 22 e 90 per il corpo da 150 22 e 90 lo stesso strana sta cosa vabbè non hanno la certificazione l'olio per capelli 150 ml 16 e 90 non ha la certificazione c'è addirittura un esfoliante che è questa qui ai sali marini 19 e 90 200 grammi questa ha la certificazione poi l'emulsione idratante corpo che è questa qui bianca ha la certificazione 200 ml 19 e 90 certificato e cea tutte e due quindi da quello che ho capito questi in bianco sono certificati cea e gli altri in nero sono comunque ottimi e bio ma non hanno la certificazione questo è quello che ho capito io dunque qui continua perché ci sono anche dopo sole anche queste senza certificazione dopo sole i prezzi sono 16 e 90 12 e 90 da 200 ml shampoo anti sale balsamo riparatore latte dopo sole poi c'è addirittura gel dopo sole di aloe vera da 50 ml 19 e 90 ok e poi questa qui ecco tutta la linea tutta la linea bianca e ci sono tantissime cose c'è la linea viso allora latte detergente tonico gel viso purificante maschera idratante calmante crema antirughe contorno occhi emulsione sfoliante dolce gel detergente purificante crema viso idratante gel base massima idratazione crema antirughe vitalizzante giorno crema antirughe repair notte crema protettiva pelli fragili crema protettiva pelli secche sia roviso antirughe poi la linea corpo emulsione idratante corpo esfoliante sali marini deodorante naturale e crema mani deodorante interessante quello potrei provarlo poi linea detergenza gel bagno schiuma doccia shampoo sport olio multitrattamento shampoo delicato shampoo antiforforo e capelli grassi detergente intimo delicato interessante ecco qui allora questi qui contengono questi prodotti olio d'argan acido ialuronico rosa moscheta aloe vera e beh mi sembrano buoni cavolo ecco questi qui vedete questa qui la linea appunto bianca non è quella nera e hanno la certificazione certificato icea quindi se vi interessa da limoni meson bio ok vediamo se c'è qualcos'altro più avanti ah beh poi qui questo si sa c'è la zao make up sempre con la certificazione questa ecocert tutti i prodotti della zao bellissime confezioni e poi vabbè quelli classici tradizionali clinique shiseido non ve ne parlo neanche però a chi interessa si sa che ovviamente le profumerie ci sono claren collistar e poi queste qui che dovrebbero essere un po più ricercate come prezzo un po più alte c'è la well max e l'alma k con i minerali del mal morto ok io vi saluto e ci sentiamo al prossimo video ciao ciao ciao